Un saluto da Dr. Palmas, ti mostro un altro caso risolto di denti fissi con sistema bocca bionica. Quello che vedi è il primo e dopo di un paziente mezza età, giovane, piuttosto giovane anzi a dire il vero, con denti che erano completamente andati a causa della parodontite. Quello che vedi sulla destra è il risultato finale, una bocca completamente ristabilita con i denti masticatori, cosa che mancava prima, il paziente non poteva più alimentarsi. Questa era la situazione clinica, paziente che non aveva più la possibilità di mangiare, aveva pochi denti rimasti nella parte anteriore, i denti che anno dopo anno erano stati estratti dalla bocca. I denti erano in una parodontite in stadio terminale, praticamente erano tenuti dall'osso per pochi millimetri le varie radici, i seri macellari erano molto espansi. Questo è già il risultato con i denti provvisori che abbiamo ottenuto. Questo è il tipo di impianti che sono stati messi, un osso perfettamente regolarizzato, con dei denti in composito nella parte inferiore e linea superiore nella parte superiore in zirconio. Quello che vedi è lo schema grafico degli impianti. Abbiamo posizionato, come ti ho anticipato, sei impianti per mascella. Su di questi sono stati progettati nuovi denti che sarebbero stati poi avvitati sopra. Sulla sinistra vedi l'attacca tridimensionale con gli impianti già inseriti. Sulla destra invece come si presentava al paziente quando è arrivato al policlinico. Fortunatamente in mandibola c'era abbastanza osso per mettere impianti abbastanza posteriori. Per questo sopra siamo andati a ricostruire fino alle zone ptericoidee. Questo è il design che abbiamo utilizzato per progettare i denti. Il paziente ha mostrato quello che era il design del risultato ottenibile. E quelli che vedi a monitor sono i denti definitivi. Dei denti iperrealistici con gengive iperrealistiche nelle loro proiezioni laterali, centrali. Dei denti molto mascolini con canini abbastanza morbidi. E questo è il paziente nelle sue viste laterali. Uno splendido sorriso. Nota come il paziente abbia adesso una bocca completa con tutta una fila di denti bianchissimi, bellissimi. Cosa che prima invece non aveva. Spero ti sia piaciuto questo caso. Dai uno sguardo anche a tutti gli altri.